Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo come aumentare così GFPS su Fasmophobia ovviamente avrete altre riguardo su come aumentare GFPS quindi in questo caso facciamo anche un tutorial su Fasmophobia quindi in questo caso in descrizione ci sono vari link per aumentare GFPS quindi iniziando prima con il pannello di controllo di Envy è più un settaggio per quelli che hanno una scheda grafica in video invece chi non ha una scheda grafica in video possiamo fare tutto nel gioco quindi in questo caso andiamo direttamente sul pannello di controllo di Envy che lo trovi direttamente qua sotto oppure te l'ho lasciato in descrizione per scaricarlo e installarlo tasto destro sopra pannello di controllo di Envy gestisci le impostazioni 3D impostazioni programma ovviamente vai direttamente su aggiungi su sfoglia ti porterà così nella devi andare direttamente dove hai installato il gioco dove hai installato il gioco ed eccolo qua entri nella cartella Fasmophobia e inserisci così il Fasmophobia.exe ed ecco Fasmophobia.exe una volta fatto non ci resta che modificare così le impostazioni il dimensionamento immagine mettiamo disattivato perché la nitidezza non ci serve facciamo ok antieles correzioni gamma mettiamo disattivato antieles FX doppia mettiamo disattivato questo mettiamo controllato dall'applicazione antieles in trasparenza mettiamo disattivato offering triplo mettiamo disattivato scalate quindi questo qua o no questo qua no filtro anisotropico mettiamo direttamente disattivato filtro struttura ottimizzazione trilineare mettiamo disattivato filtro struttura qualità prestazioni elevate fotogrammi pre renderizzati per la realtà virtuale mettiamo usa impostazioni in globale frequenza fotogrammi massima mettiamo attivo fino a 1000 fps ma non ma lei 1000 fps è un modo per dare diciamo come dire illimitato è come mettere un illimitato qua facciamo ok prendiamo fino a giù frequenza fotogrammi massima applicazione mettiamo disattivato e facciamo ok questo lo saltiamo questo lo saltiamo modalità abbassa latenza mettiamo ultra ora ottimizzazione con i triad diamo automatico limitazione verticale vista che non dobbiamo nere fissi di fps ma dobbiamo metterli illimitati mettiamo disattivato tecnologia monitor o ai gs in co ai pre sim monitor su di queste invidia velocità di aggiornamento preferite la più elevata basta e poi applica applica più volte finché non fa una volta eseguito il tutto chiudiamo un attimo questa scheda e adesso andiamo sul programmino che ti ho lasciato in descrizione che si chiama nvidia profile inspector direttamente un pacchetto rara tasto destro sopra o in rara estra i file nvidia profile inspector ti darà così questa cartella entri nella cartella prendi il programma ed eccolo qui scrivi qui scrivi qui basmofobia scendiamo fino a giù fino a trovare anti-aliasing trasparenza super sampling questo qua e mettiamo il 08 doppia mod replay quindi fino a trovare texture filtering questi due texture filtering che stanno nella sezione texture filtering imposta il più 2.7500 tutte e due applica più volte finché non cambia a posto chiudiamo un attimo qua e ora un altro pannello di nvidia nvidia app sempre in descrizione c'è l'applicazione nvidia app beta scarichi e installi basmofobia ed eccolo qui il gioco non è ottimizzato metto prestazioni e faccio ottimizzare basta chiudo un attimo qua e ora non mi resta che entrare nel gioco ed eccolo qua ovviamente la grafica l'abbiamo un po' ridotta comunque se non ti piace la grafica come è venuta puoi semplicemente andare su nvidia profile inspector e cliccare qua sopra ovviamente tu devi scrivere sempre basmofobia e qua scrivi clicca qua sopra per ripristinare il tutto e ritornerà così alla normalità quindi ripristinerai così la grafica oppure puoi fare dei test ora andando su opzioni su video vado a mettere così la mia risoluzione 1920 using metto off schermo intero schermo intero luminosità lo metto su 150 anti-aliasing metto off l'fx metto direttamente prestazioni sostituisci nitidezza risoluzione texture un ottavo quarto siamo dimezzata la luce del cielo metto off quella della nebbia metto basso ombre morbide risoluzione ombre molto basso anisotropico un ambientale off avvocatura off grana pellicola metto off operazione cromatica metto off adattamento metto off e faccio ed eccolo siamo sopra ai 258 fp 220 258 fps 244 e abbiamo aumentato gli fps se non ti piace puoi semplicemente aumentare un po' la nitidezza quindi sul video sostituisci nitidezza metto un po' on aumento così la nitidezza risoluzione texture metto completa e faccio off quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao